Il bravissimo Gerry Scotti avrebbe pianto nella puntata di ieri, quindi avrebbe versato un po' di lacrime, era il 14 marzo del 2019, infatti pensate che il concorrente avrebbe scelto di utilizzare l'aiuto chiamato chiedilo a Gerry, dove appunto va a chiedere al conduttore di trovare la risposta esatta. La domanda da 15.000 euro era la seguente, adesso ve la leggerò. Ho paura per la prima volta in 12 puntate, sono in gravissima difficoltà. Per fortuna però la risposta era effettivamente quella esatta. Bravo caro Gerry, ovviamente qualche lacrima sarebbe uscita dal volto angelico del bravissimo Gerry Scotti, è normale. Grazie a tutti, complimenti al Gerry Scotti, conduttore meraviglioso, salutori. Grazie a tutti.